Benvenuti in un nuovo episodio dedicato alla carriera del Natore Giramondo con il Dandy United nella terra delle cornamuse Buona domenica a tutti quelli che mi stanno guardando su YouTube In questo momento io sono in live sul mio canale Viola Trovate il link in descrizione per venirmi a seguire perché questa carriera la registro sempre quando riesco in live Fino adesso siamo sempre stati in live Abbiate pietà di me, non so cosa uscirà in questo episodio Forse sarà anche un pochettino più breve del solito Andremo a giocarci sicuramente il ritorno Contro il Besiktas per raggiungere i gironi di Europa League Il risultato dell'andata lo vedete a schermo L'abbiamo giocata nello scorso episodio che ovviamente vi invito a recuperare Sarà una partita importante perché il Besiktas ha una squadra molto forte Andremo a giocarci un paio forse di partiti di campionato Aberdeen, Rangers e chiaramente concludiamo il calciomercato Forse con qualche innesto in prestito, non credo dagli svincolati Dicevo abbiate pietà di me perché sto registrando di sabato A poche ore in realtà è mezzogiorno, preciso A poche ore dalla finale di Champions Sono chiaramente l'agitazione che sta iniziando a prendermi Voi che state guardando questo video saprete già il risultato E quindi comunque sono agitato, ecco Oggi ci dobbiamo concentrare sul Dandy United E prima di andare avanti con il calciomercato Sono sincero io ho tutta la testa concentrata sul Besiktas Quindi non sinceramente perderei altro tempo E inizierei e aprirei questo episodio con una bellissima partita Che può essere molto molto importante Cioè andiamo a giocare ovviamente Nello scorso video abbiamo fatto anche qualche acquistino Hamilton non mi è per niente dispiaciuto Come non mi sta dispiacendo Dikes Come non mi sta dispiacendo Che metto assolutamente titolare Anche Hamilton titolarizziamo Assolutamente via in forma Andiamo con Maiten sulla sinistra al posto di Johnston Non voglio togliere troppo spazio a Maiten Devo essere sincero Siamo un pochettino più equilibrati con Levitt, Grammini ed Hamilton Quindi resterei così Questa è la formazione titolare con la quale andiamo a sfidare il Besiktas Ovviamente però come al solito dobbiamo imprevistarla Tutto pronto dunque? 3, 2, 1 Infortunio! Ah, iaiaiaiai Il giocatore estratto salterà la parita per infortunio Tra l'altro è tanto che non usciva un imprevisto Vediamo chi sarà Il 4 Oh, shish Mi è Popovic E mentre facevo la formazione stavo pensando di far giocare Edwards Vediamo come se la caverà Non c'è più tempo da perdere Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza, ovviamente Tangerines Ma io l'avevo letta con Ramirez Perché mi devi fare così? Occhio! Uh, Gray! Dopo il tiro deviato Proprio da... Ah, Maiten! Niente, oh, Maiten Mi si è rinc... Ai, ai, ai I rincoglionimenti di Sima Eeeh, Gray Grande parata Edwards Occhio qui al Besiktas E' ovviamente Muleka Avanti i turchi! Non sbagliano, non sbagliano Gli abbiamo lasciato un centimetro Io non riesco a comprendere come si possa prendere un'imbucata Con la difesa al limite dell'aria schierata Questi gol non li sopporto Non li sopporto Perché più che altro non so come fare a fermarli Non so dove piazzarmi Non so dove posizionarmi Ah, Simo ma che... Mamma mia, Benedetti Calmi, calmi perché non ci stiamo capendo niente Hamilton, te prego Iniziamo a farsi valere qua al centrocampo, eh Ok, fine primo tempo Riusciamo a recuperare qualche energia? Cioè, Maiten, ragazzi, è imbarazzante Io mi aspetto molto di più da lui Faccio passare dieci minuti e poi andiamo con i cambi Vediamo se riusciamo a rimetterla sui binari giusti Fuori Hamilton, mettiamo Levitt qua Hamilton mi ha un pochettino più stanco Avanziamo giusto un pelo Ramirez Potrebbe... Ma che cazzo sto a fare? Toma volevo mettere Ah, Toma, te nascondi? Ok, perfetto E sì, sinceramente sfrutto questa finestra per fare i cambi Per far uscire Maiten Malissimo, malissimo La palla è recuperata da Grame Vai, Rancunda Dagliela bene, te prego Oddio, Grameni, sei inserito Sei inserito, Grameni È mancino però Mannazza No, no No, è stanchissimo Bella Le spostate Toma Non ci credo Avevamo fatto un'azione incredibile Fuori Levitt dentro Kelly Non ce la fa più Dai, raga, possiamo farcela Dai X, te prego Proteggila e vai X, giocala dietro Niente, non ci sono riuscito Finisce qua Perché ci mettiamo le mani tra i capelli, ragazzi? Andiamo ai supplementari Vero? Una bella partita Sia vai ai supplementari Supplementari, ok C'è anche Rancunda molto stanco Tolgo nu Dentro cara Rancunda lo lascio Supplementari Mannaggia la miseria Chiansetta Partire subito così Mamma mia Io ho bisogno Bravo Simo Mamma mia Io ho bisogno che chi mi entra in campo Però faccia molto di più Tipo Toma Rancunda è stanco Ma ne ha Rancunda è stanco Ma ne ha Sì Rancunda Rancunda Devastato dalla stanchezza Devastato dalla stanchezza Ma lui va oltre Ci mette il cuore E pareggio Dandy United Nei supplementari Assis di Toma Gol di Rancunda Sassone sotto la traversa E si gode Occhio Kelly Bravo Non perdiamola Toma Sì Sì che adesso Sì che adesso ci sono gli spazi Ce la metti bene L'abbiamo fatto Fine Dei Giochi Al primo tempo Supplementare Al primo tempo Supplementare Di nuovo in rimonta Contro i turchi Ho chiamato I nuovi entrati Assis di Toma Assis Di Freeman E gol Di Johnstone Ci siamo Non dagli una stecca Come se deve No niente Prigioco Meglio una punizione Poi magari ci segnano Su punizione Godo Godo ancora di più Espulsione Spesa benissimo Avete presente il detto Avete un rosso da spendere Preciso preciso Può ripartire Johnstone Ma dai cacchio Non c'ha il portiere In porta Non puoi fischiare così Fa lo stesso Siamo Ai gironi Di Europa League Abbiamo lottato Con le unghie Con i denti E ce l'abbiamo fatta Nonostante Qualche giocatore Mi sia mancato Il momento del bisogno Voi andate in conference Che forse Poteva essere Una competizione Alla nostra portata Però Raga Questo ci dà più prestigio Ci dà un salto Ci fa fare un salto Di qualità Molto molto importante Siamo stati Siamo stati bravi Siamo stati bravi Secondo me Allora Per quanto riguarda La difesa Io in realtà Di prestiti Non ne avevo trovati molti Andiamo a vedere Velocemente Insieme a voi Se effettivamente C'era qualcosa Io purtroppo Questi A Banqua So che è discreto Dov'era andato in prestito Perché a Banqua Era in prestito In una squadra inglese Ah era in prestito Al St. Patrick E adesso È ancora in prestito Al St. Patrick Ma lui ci potrebbe stare Raga Allora L'unica possibilità Che ho Per prenderlo È che mi facciano Una offerta a loro Che cool Si sono alzati I mortacci loro Torna un attimo Qua Va là Modifichiamo la clausola Al 7 E via No vabbè Dai Ma sei serio? Baggot Questo è indonesiano Sporadico A Baggot Non credo Non credo di esserci Se salta questo Perfetto Con Elkan Baggot Uno dei pochi Se non l'unico Indonesiano del gioco A Baggot Ma io non mi lamento Baggot Almeno abbiamo Quattro difensori E quattro terzini Tra l'altro Cresce anche Cerchiamo di non farlo bloccare Io un altro Prestito L'avrei fatto Ma non abbiamo Assolutamente I soldi Per farlo ragazzi A meno che Veramente non mi arrivi Un'accessione Ma In questo momento Non vorrei cedere nessuno Giocatori impegnati Abbiamo Tony Vatti Scostia Oliver Grain Scostia Non sono assolutamente Raccomandati Gramini Romania E Leviting Galles Questi sono i nostri Giocatori chiamati Dalle nazionali Attenzione perché Adesso Abbiamo una partita Molto importante di campionato Contro l'Aberdin Che in questo momento È di un punto sotto di noi Ma noi dobbiamo tornare Assolutamente a vincere Sono usciti i gironi Di Europa League Sono usciti Arsenal Gank E Pacos Ferreira Bellissimo girone Non so sinceramente Se riusciamo a giocarcela Con il Gank Non sono sincero Hanno una bella squadra Sicuramente Ce la giochiamo col Pacos Direi che possiamo Andarci a giocare Questa partita contro l'Aberdin Dobbiamo assolutamente Tornare a vincere In campionato Abbiamo dei giocatori Molto stanchi Baggo titolare Subito così Subito così Andiamo con Con Toma Quest'oggi titolare Ma sapete invece Toma Io lo metto qui a destra E qui metto Metto Kelly Dai Questa è la nostra formazione Oggi mi sa che l'imprevistario È È carico Bello carico Quindi vediamo cosa esce 3 2 1 Nessun imprevisto Perfetto L'ho subito smorzato Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza Tanti United Mamma mia Gray Subito Baggot Protagonista Con una marcatura Larghissima Dai Devo ammettere che comunque Non mi è partito male Questo Aberdeen Un po' in difficoltà Dove vai cara Ma guarda questo Avanti Aberdeen Non un esordio Da ricordare Quello di Baggot Buttato nella mischia Così Non ha fatto neanche Un giorno d'allenamento Al centro per Dykes E noi tiriamo così Volevo anch'io Un bel tirone Verso il palo Tiraccio Di piatto Ok Ok Forse adesso Forse adesso Ma che cross è? Ma che cross è? Ma per chi? Ma per Per che cosa? Hamilton Interdizione spettacolare Colon Ancora Me la deviano Non riusciamo ad essere Concisi Precisi Poma in accelerazione Dykes Ancora Con questo piazzato Che non esiste Dykes Tira un bel sassone Ad Dykes Gray Me ne tieni una Gray Una ne devi tenere Questa era centrale Sì va bene L'hai parata Ma me ne devi tenere una Se no regaliamo sempre 170 calci d'angolo Mamma mia C'è proprio Uno stacco Importante Su come mi saltano Loro E su come li salto Loro E su cosa? Cosa ho detto? C'è proprio uno stacco Su come loro mi saltano E su come io salto Loro Che giornata Che giornata Che giornata Purtroppo non c'è altro Che io possa fare Sul calcio americato Farei ancora tante cose Perché purtroppo Kelly non sta rispettando Le mie Le mie aspettative Ecco Prendo gol Troppo facilmente Prendo gol Troppo facilmente Devo difendere meglio Io in primis Però mi scivolano Veramente i giocatori Anche Bagot Nell'ultima azione Avete visto Proprio Andato Andato oltre Andato oltre In realtà Devo ammettere Che se andiamo a vedere Proprio I nomi presi La qualità Della squadra Io non sono Triste per il mercato Che abbiamo fatto Cioè Sono Sarei anche soddisfatto Ora è arrivato il momento Però Di Dimostrare Quello che sto dicendo Cioè Bisogna Bisogna iniziare A giocare Porca miseria Abbiamo amichevoli internazionali Non ci interessano Oh no Vabbè Non la giochiamo adesso Va bene Per il futuro Me l'ho spaventato Andiamo a giocare Questa partita Contro il Rangers Che ovviamente Andremo a vincere Johnston Vatti Rancunda Gramini Hamilton Levitt La titolare Ramirez Popovic Simon Cara E Gray La titolarissima La formazione Che mi dà fiducia La formazione Che mi Dà sicurezza Speriamo bene Nessun imperio Sempre il 19 è uscito Benissimo Andiamo in campo così Sempre sul pezzo E forza Dandy United Dai ragazzi Sono ancora un po' dispiaciuto Per la partita di prima Perché perdere un new firm così Fa male I tifosi non saranno stati contenti Ed è per quello che si aspetteranno Una risposta Almeno dal punto di vista Caratteriale In questa partita Contro il Rangers Che appunto Ha ancora degli strascichi Per la finale Di Coppa di Scosta Dove gli abbiamo Rifilato Decisamente Un bel po' Di palloni Però Non basterà mai Non basterà mai Perché noi ogni volta Prendiamo dei fischioni Clamorosi Contro il Rangers Celtic E a sto giro Anche contro l'Aberdine Mannaggia i sandalazzi A me dispiace Perché non siamo quelli Non siamo quelli Johnston Mamma mia Popovic Che chiusura Oh Vat Ma come te ne sei Ma Ma Vattone Ma Vattone Ma non me l'aspettavo Ma non me l'aspettavo mai Nella vita Vat Questo dribbling Leggero Leggero Un po' L'amilito Pony Vatt Al decimo minuto Porta in vantaggio Il Dandy United Ma chi è Fashion? Ma chi è Fashion? Ma come Fashion? Ma poi Junior C'era anche un Fashion Senior Non posso crederci Uh Non farti saltare da Fashion Chicoffino Chicoffino Ah saccala Chicoffino Però Va bene lo stesso Sono stati bravi È stato un bel kickoff Fashion è stato molto molto bravo Mannaggia che apertura Hamilton Ma che cosa hai tirato Una sbombardata Johnston Niente da fare Chicoffino anche per noi Però una volta Chicoffino anche per noi Santo il cielo Non ci credo Ma non ci credo Ma non ci credo Guardate C'è solo Hamilton Grameni E Leavitt Sono a Caggiuda Fammi sta palletta Bravo Nu Via Nu Via 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 Non so cosa sia successo Vabbè Lasciamo perdere Oh Belli però Così Come ci allarghiamo Dagliela bene Vatt Di sinistro Ma perché mai di sinistro Ma perché mai di sinistro Ma perché mai di sinistro Grande parola comunque Del portiere Ci fanno vedere Il salvataggio di Ramirez Dai che la ricopriamo Dai che è girato Bravo Vatt Forza Johnston Forza Johnston È quello che voglio Degli esterni Johnston Sì Poi va mosciato Sul più bello Bella Bellissima 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 Questa bellissima Raga Questa bellissima Finalmente È una buona giocata Un buon recupero palla Qualcosa di imprevedibile Si pensava potesse andare Vatt Ma ha fatto la cosa migliore Forse Bravo Ramirez Eh no Effettivamente Forse Vatt Non poteva andare Bravo 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 Johnston Bravi tutti Ci servirebbe come la Come l'acqua Come l'aria Come il pane Questa vittoria Ci servono punti Occhio perché nulla tocca Ramirez Stratiene lì Palla fuori Palla fuori Palla fuori Palla fuori Allora con calma Con calma Con calma Con calma Allora Dentro Freeman Mamma mia Guardate come ci vengono a prendere Non so a chi darla Ma è bellissimo Ma è tutto bellissimo Ma è tutto bellissimo Ma è tutto Bellissimo Ma è tutto bellissimo Ma 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 Questo è uno schema Studiato Attentamente Durante l'allenamento Mi sembra chiaro no? Avete visto come è venuta bene Ma cosa fa Vabbè ragazzi Vabbè Non ho Non ho parole Non ho parole Un tondo Un tondo Colpito interamente Non ho veramente Veramente parole Non ho veramente Ma veramente parole Un tondo cliccato interamente Simon fa una roba del genere Guarda che è una roba Fuori di testa Contro sto Rangers C'è sempre da soffrire Trovo nu Su fashion Crei Madre mia Madre mia Madre mia Ce l'abbiamo fatta Abbiamo battuto il Rangers Ma com'era passato Sto pallone Ci avete provato Un'altra volta Ci avete provato Un'altra volta E' una vittoria Che come dicevo prima Vale Più di tre punti Battuto il Rangers Ve l'avevo detto Che ero fiducioso Quest'oggi Ve l'avevo detto Che ero fiducioso Non mi interessa niente Se abbiamo meritato Non me ne può fregar Di me No Oggi siamo stati bravi Oggi siamo stati bravi Al di là Di quegli errori Difensivi Che Su questo gioco Conosciamo molto molto bene Un po' per colpa mia Un po' per colpa Proprio del controllo Ma va bene così ragazzi Va bene così Oh Abbiamo perso partite Che non meritavamo di perdere E abbiamo vinto partite Che forse non meritavamo di vincere Nel prossimo episodio Apriamo alla grande Questa vittoria Come vi ho detto E' proprio Uno spettacolo Uno spettacolo Ci voleva Tutta Quanta Dicevamo Nel prossimo episodio L'apertura con Pacos de Ferreira Dei giudizioni di Europa League Poi abbiamo Kilmarnock Motherwell E poi anche il Gank Quindi Direi che E' Fondamentale Il prossimo episodio Cioè adesso abbiamo Un tot di partite Dove i punti devono iniziare Ad esserci Poi ovviamente Io vi leggo sotto nei commenti Fatemi sapere cosa ne pensate In questo momento Il Motherwell E' avanti a noi E Kilmarnock E' a pari punti Quindi capite Ancora di più L'importanza Di questi match Ci vediamo in un prossimo video Fatemi sapere cosa ne pensate Del calcio mercato So che Per l'acquisto di Rancunda Non abbiamo coperto Al 100% Alcuni ruoli Ne sono consapevole Però secondo me Alla fine Siamo riusciti A sistemare Il sistemabile Prossimi calcio mercato Cercheremo di fare ancora meglio Noi ci vediamo al prossimo video Saluto dal mezzo E alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.